Questa volta secondo me noi viviamo una situazione generale. Abbiamo la peggior classe dirigente che potevano mettere in campo, presuntuosa, insufficiente e impreparata. Nelle marche serve un governo migliore. Sono le affermazioni dell'ex sindaco di Fano e attuale primo cittadino di Colli al Metauro, Stefano Guzzi, che spiega le motivazioni che lo hanno portato ad accettare l'invito di Acquaroli a candidarsi per le prossime elezioni regionali. A Guzzi, che si definisce un riformista e un moderato, correrà con Forza Italia, il partito che ha aperto le porte anche ai non iscritti. Perché in passato no? Quando me l'hanno chiesto e oggi sì. Oggi c'è una situazione generale, economica, sociale, politica drammatica, legata in buon parte al Covid ma anche a tematiche più generali e abbiamo una classe politica complessivamente insufficiente, anche le più improbabili. Vediamo sardine, vediamo grillini, vediamo centri sociali per le piazze che inveiscono contro altri politici che vogliono andare lì a parlare. C'è un problema insomma di serietà, di rappresentatività, di persone che stando con i piedi per terra guardano effettivamente al bene della collettività. Con questo spirito, prosegue Guzzi, serve un cambiamento anche nella nostra regione. Porterò l'esperienza maturata come sindaco, conosco bene la nostra provincia, le imprese, le persone e sarà per me una grande sfida. La regione Marche, per stessa ammissione di chi la sta governando, è stata governata male. Quando dico stessa ammissione non hanno ricandidato il presidente uscente. Abbiamo la fortuna di avere un candidato presidente, Francesco Acquaroli, che io conosco da diversi anni e che è un'ottima persona. Lo ringrazio di avermi cercato, mi ha cercato personalmente e questo mi ha, diciamo così, motivato nel voler dare un mio contributo. Contributo che sarà incentrato sulla sanità, turismo, viabilità, imprese e collaborazione tra costa e dentro terra. Prima di accettare la proposta, a Guzzi si è assicurato che il comune di Colli al Metauro non venisse lasciato in mano a un commissario. Infatti, nel caso venisse eletto, l'attuale giunta porta avanti l'attività fino alle prossime elezioni, che verrebbero anticipate a metà 2021. Durante la conferenza stampa, il sindaco ha voluto anche sottolineare le gravi criticità del territorio. Basta vedere i nostri terremotati ancora nei camping al mare, bisogna vedere, e non certo per fare turismo, basta vedere la Fano Grosseto rimasta lì nei decenni e tuttora la mancanza di servizi e di collegamenti con l'entroterra. Basta vedere la sanità come è stata ridotta in questa provincia con la chiusura di presidi preziosi e il non aver dato nessun servizio alternativo ai cittadini, che oggi si trovano in grandissime difficoltà. Durante il periodo Covid i nostri medici di base non avevano neanche le mascherine per poter andare a visitare a casa i malati. A Colli e a Metauro le abbiamo fornite noi come comune le mascherine. È il paradosso, è il fallimento di un'amministrazione. Aguzzi, che è anche un agricoltore, ritiene fondamentale puntare sull'accoglienza e promuovere l'inogastronomia con i prodotti tipici locali. Turismo, accoglienza, tutela del territorio, se noi incentiviamo le persone a rimanere a vivere nelle nostre colline, nelle nostre entroterra, nelle nostre montagne, nelle nostre campagne, vuol dire mantenere vivo e sano quel territorio. Tutto ciò, ha detto il candidato consigliere, sarà possibile solo garantendo filiere adatte, incentivi e servizi sul territorio a partire da quelli sanitari e di viabilità. Questo benedetto casello Fano Nord, che collegherebbe la nostra interquartieri all'interquartieri di Pesaro, tranne il casello che loro realizzeranno a Santa Veneranda, è un'automatica circonvalazione, un automatico collegamento tra Fano e Pesaro. Quando ero sindaco a Fano l'avevo proposto insieme a tutte le opere accessori che sono state poi realizzate e aperte anche da non molto tempo e questo invece era stato bocciato dalla sovrintendenza. Io credo che un'azione comune della Regione Marche e del Ministero possa superare anche questa difficoltà con la sovrintendenza e realizzare un casellino con poca spesa, evitando di deturpare un territorio con un'eventuale improbabile nuova strada che costeggi l'autostrada. L'autostrada c'è già, un casello Fano Nord unito al casello Pesaro Sud sarebbe un'ottima alternativa per arrivare a Pesaro da Fano e viceversa.